Ciao, benvenuto in questo nuovo video, mi chiamo Carlo, oggi parliamo di basso fretless e il basso senza tasti, cioè non ha proprio i tasti, tu magari adesso li vedi perché questi qua sono disegnati ed infatti questa è una delle prime domande che solitamente vengono fatte quando si parla di un basso fretless, ma c'è i tasti, i tasti sono solo disegnati, i fretless sono di due tipi normalmente, quelli con line disegnati no, non line fretless, non so come si dica, comunque non sono dei pezzi di ferro che escono come nei bassi con i tasti che dopo ti faccio vedere, ma sono soltanto disegnati, oppure quelli con la tastiera cieca, tipo questo, vedi che tu che guardi la tastiera non vedi nessuna linea, questo però non è proprio vero, nel senso che non la vedi da davanti, però nei bassi fretless a tastiera cieca solitamente cosa viene fatto? di lato ci sono i pallini che tra l'altro ci sono anche nel basso con i tasti, però questi pallini sono messi esattamente dove dovrebbe esserci la linea, dove dovrebbe esserci il tasto e quindi vanno a fare da comunque riferimento, quindi non è poi tanto diverso il suonare un basso cieco rispetto ad uno con i tasti, i riferimenti comunque qualcosetta c'è, non è come il contrabbasso che normalmente non ha proprio nulla, però chiaramente è tutto più difficile, perché comunque con il basso fretless tu devi immaginare, oppure vedere dove è la lineetta, andare a mettere il dito esattamente sulla linea, poi dipende da basso a basso dipende da quanta forza metto, quindi non è detto che mettendo comunque il dito esattamente dove c'è la linea disegnata, oppure dove c'è il pallino nell'altro, sia poi intonata perfettamente la nota, quindi comunque va molto ad orecchio anche, quindi per questo bisogna esercitare anche molto l'orecchio, però indicativamente dove c'è la lineetta più o meno devo andare a mettere il dito. Nel basso con i tasti questa cosa è diversa, perché io ho la possibilità di andare a mettere il dito da qua a qua, tutto all'interno del tasto e poi la nota partirà da dove parte il fret, il tasto, quello sotto, per l'intonazione della nota, quindi sull'intonazione in basso con i tasti è molto più semplice rispetto a questo, dove se io per suonare un Do non posso utilizzare tutta questa porzione, quindi se vado a metà tasto il Do è stonato, devo andare verso il fondo dove partirebbe il tasto. Questo mi suggerisce già un primo studio quando ad esempio suono con il basso con i tasti, il fatto di cercare nelle posizioni tenere sempre la posizione in maniera più possibile sui tasti, questo perché uno, fai meno fatica che sul basso con i tasti, perché se sei proprio sul tasto schiacci un pochettino di meno e la nota esce più facilmente, e due, perché quando passerai a fretters, avrai comunque la mano già impostata. Questo è il grande, poi chiaramente si va a sgrossare con l'uso dell'orecchio e con gli esercizi appunto che puoi fare per migliorare l'orecchio, io consiglio quello, infatti molti esercizi che vado a fare per il basso fretters sono appunto dove ho delle note e io cerco di intonarle, esercitare, affinare il mio orecchio il più possibile per cercare di farle intonate. Perché si sceglie di suonare un basso fretters? Potrebbe essere un'altra domanda, perché la parola d'ordine del basso fretters, a parte mi agolio che è il suono che ne esce rispetto a un basso con i tasti e espressività. Il basso fretters è molto espressivo, viene paragonato spesso alla voce umana. Si ha questo miagolio della nota che arriva appunto perché non essendoci il tasto la nota arriva un po' dopo e su alcuni bassi anche con questo miagolio che il mio amico Ferruccio invece dice come la mucca perché può assomigliare al suono della mucca, anche questo è vero. Però ad esempio prima che ho fatto l'introduzione con un basso con i tasti non sarei riuscito a dare questa espressività, è bello lo stesso però comunque suona diverso. Senti che comunque soprattutto sulla parte acuta il basso fretters è molto più espressivo. Anche gli slide, come hai sentito? Il fatto da arrivare su una nota facendo uno slide e non avere i tasti che ti sminuiscono un pochettino al suono in confronto perché qua è veramente tutto molto molto più naturale secondo me. E quindi questa cosa qua è molto bella soprattutto se lo vai a usare poi sulle sulle parti acute, sulle melodie, ma anche negli accompagnamenti. Comunque il suono è comunque molto bello, assomiglia a quello di un basso, ha un attacco minore perché non ha il tasto però comunque è interessante. Chiaramente quello che spaventa tutti è la difficoltà perché comunque è difficile, cioè c'è poco da dire, bisogna fare tanti esercizi per esercitare l'orecchio e poi bisogna sempre prestare massima attenzione a come metto le mani, l'orecchio, sentirlo. Una cosa che ti consiglio se vuoi passare a basso fretes è quella di cercare di registrarti perché quando suoni magari non ti accorgi dell'intonazione perfetta o di alcune cosette e quindi soltanto registrandoti e poi riascoltandoti a mente lucida riesci ad orecchie che sentono solo quello dopo, non mentre stai suonando, ti aiutano a capire quali sono magari i tuoi limiti perché alla fine ce ne abbiamo tutti e possiamo migliorare. E registrandosi sicuramente andrai a scovare delle cose che suonando non te ne accorgi o non credevi di avere fatto. Bene, ti ho fatto una carrellata sul basso fretless, è proprio un'introduzione quindi se hai delle domande, dei dubbi oppure altre testimonianze di qualcos'altro scriviamo nei commenti, magari possiamo fare un altro video in futuro dove approfondiamo qualcosa di questo. Io per adesso ti ringrazio e ci vediamo poi al prossimo video. Grazie, ciao!